Un weekend ricco di appuntamenti, quello del Natale in città del comune di Pordenone. Anche quest'anno infatti il mercatino di Natale in piazza 20 Settembre, fulcro del Natale in città, sposa la promozione del territorio, senza dimenticare la solidarietà con l'altro Natale, che lo affiancherà fino all'8 dicembre. Ogni giorno le casette in piazza 20 Settembre propongono una ricca offerta enogastronomica, ma anche articoli da regalo, oggettistica, accessori e artigianato. Inaugurata anche la mostra Un gioiello di fotografia al Museo Civico d'Arte in Corso Vittorio Emanuele, particolarmente originale per il connubio tra l'arte di Nuccio e le fotografie di Euro Rotelli. L'assessore comunale alla cultura Claudio Cattarruzza. Che vede le creazioni artistiche di Orafe, di Nuccio e le fotografie commentate dalle fotografie di Euro Rotelli, rappresenta uno degli avvenimenti importanti di questo Natale in città. Un'occasione per valorizzare quello che è anche un grande lavoro che è stato fatto dal nostro artigianato, che significa lavorare e saper fare le cose bene, e da chi come Euro Rotelli è un grande fotografo e ha un grande obiettivo. Quindi un invito a tutti a venire a visitare questa mostra e soprattutto a trascorrere delle buone festività natalizie. Sempre al museo, il duo comico dei Papu propone gli sproloqui d'arte d'inverno, ancora per due domeniche, il 13 e il 20, alle ore 16 e 18. Noi vi aspettiamo però... Domenica prossima. Certo. E domenica prossima prossima. Il 13 e il 20, alle 16, alle 18... No, 14, 16, 18... Oh, basta, finito il tempo. Ma no, tutte cose diverse. Ogni domenica, quindi potete anche ritornare. Ma i musei pensano anche ai bambini, con il Natale nei musei d'arte con i bambini. Tre visite attive al laboratorio la domenica pomeriggio, legate alle mostre in corso, a partire da domenica 13 dicembre, in Galleria Pizzinato. Domani sarà la giornata dei presepi, con l'inaugurazione al mattino dei presepi dei bambini, nel chiostro della Biblioteca Civica e quello sotto la loggia del municipio, nel pomeriggio. Per ulteriori informazioni, visitate il sito comune.pordenone.it slash natale.